la volkswagen d5 e la miraglia elettrica del marchio tedesco e l'abbiamo provata l'anno scorso ma è disponibile anche una versione più sportiva e con la trazione integrale la gtx ed è proprio questo modello che oggi mettiamo alla prova con il suo doppio motore elettrico per una potenza complessiva da 299 cavalli andiamo a scoprire com'è e come va com'è fuori ci sono alcune differenze nelle dimensioni di questa versione rispetto a quella classica la vettura è lunga 4,58 metri alta 1,62 metri e larga 1,85 metri e da un passo 2,77 metri per garantire l'abitabilità per i cinque passeggeri per cui omologata per quanto riguarda la parte estetica la volkswagen id5 gtx propone alcuni elementi distintivi rispetto ad averso una trazione posteriore per dare una maggiore sensazione di sportività l'anteriore propone un paraurti dedicato e di fare anteriori led matrix di serie la cornice del tetto in grigio antracite e di fare i posteriori 3d led con indicatori di direzione dinamici infine la gtx è dotata di vernice metallizzata e dei cerchi in lega da 20 pollici istad di serie anche questa versione comunque condivide il pianale con l'id4 ed i principali elementi sono identici all'id5 classica a partire dall'andamento del tetto da coupé con un lunotto discendente ed inclinato così come la presenza dello spoiler leggermente rialzato rispetto alla linea di cintura non mancano numerose soluzioni aerodinamiche soprattutto per ridurre la resistenza all'avanzamento come le maniglie delle portiere a filo carrozzeria o le prese dare che si aprono solo quando serve raffreddare i componenti come per gli esterni anche l'abitacolo propone degli elementi distintivi per questa versione gtx partendo dai sedili avvolgenti e sportivi dalle cuciture a contrasto rosse e dal volante multifunzione in pelle con il logo gtx e anche in questo caso con delle rifiniture rosse inoltre questo allestimento propone vetri posteriori e lunotto oscurati per il resto gli interni dell'id5 gtx ricalcano quelli della versione classica ed anche dell'id4 con spazio importante sia per la persona che per gli oggetti con un grande pozzetto centrale dove poter ritorre telefono bevande ed anche altro i materiali sono di buona qualità e per la maggior parte eco sostenibile pur non mancando ancora qualche parte in plastica illuminazione ambientale propone 30 tonalità diverse di scelta ed è presente il climatizzatore automatico a due zone con comandi a sforamento non sempre precisi passando alla parte tecnologica l'elettrica tedesca propone il touch screen centrale da 12 pollici con il software di terza generazione ed una buona risposta dai comandi preciso delle indicazioni il navigatore discover pro così come è presente la compatibilità con apple carplay e android auto per poter replicare sullo schermo le principali funzioni dei nostri smartphone da segnalare una migliorata risposta e comprensione da parte dell'assistente vocale il quadro strumenti è digitale da 5,3 pollici con la segnalazione di autonomia percentuale della batteria e velocità funzionale ma con poche informazioni e non personalizzabile come l'abitabilità l'abitabilità posteriore è uno dei punti di forza della volkswagen id 5 gtx infatti come potete notare c'è ampio spazio per le ginocchia e per la testa per i due passeggeri laterali ma anche il terzo centrale è piuttosto comodo visto il pavimento piatto inoltre sono presenti le bocchette per aria condizionata e due prese usb c per la ricarica com'è il bagagliaio il bagagliaio dell'elettrica tedesca ha le stesse specifiche della versione a trazione posteriore ed ha una capienza da 549 a 1561 litri dunque un'ottima capacità con una bocca ampia ed un pianale piatto quindi comodo per caricare e scaricare i bagagli inoltre sono presenti i ganci ed anche una presa da 12 volta come va ed eccoci ora al volante dell'elettrica tedesca con trazione integrale ed il doppio motore elettrico uno anteriore e l'altro posteriore per una potenza complessiva di 299 cavalli e 460 newton metro di coppia massima quest'ultimo è subito disponibile e permette alla vettura di essere agile e brillante immediatamente con uno scatto fulmineo per poi accelerare in maniera progressiva per effettuare in velocità sorpassi o superare gli incroci e per potersi divertire anche un po al volante infatti la gtx ha una caratterizzazione sportiva non solo nel design e negli interni ma anche con tarature specifiche delle sospensioni dello sterzo ed un assetto più basso utilizzando la modalità sport infatti si può guidare in maniera un po più sportiva con una risposta sincera del volante sempre in sicurezza grazie a gomme sviluppate appositamente per le vetture elettriche ed una frenata decisa e pronta comunque l'id5 gtx permette anche di viaggiare in maniera confortevole con un'insonalizzazione di alto livello anche viaggiando in autostrada e con un buon lavoro delle sospensioni c'è solamente qualche difficoltà nella visibilità posteriore per il tetto basso e lo spoiler mentre quella anteriore e laterale è ottima per effettuare le manovre comunque c'è l'assistenza dei sensori di parcheggio della retrocamera a 360 gradi così come è presente una dotazione completa di sistemi di assistenza alla guida come la frenata automatica d'emergenza rimantenimento della corsia e riconoscimento dei segnali stradali o rilevamento della stanchezza del conducente presente anche il scontrollato attivo molto utile in autostrada utilizzando il travel assist abbassa automaticamente la velocità in base al limite presente sulla tratta in alcuni casi però durante la prova ha riconosciuto delle segnalazioni non corrette frenando così anche in tratti dove il limite era di 130 km orari già parlato della modalità sport sono presenti altre modalità di guida la eco e la norma ad esempio cioè quelle dedicate rispettivamente al risparmio dell'autonomia e dalla guida più classica di tutti i giorni la quarta invece è tipicamente elettrica cioè la brake ed è selezionabile dal cambio in questo modo aumenta la risposta del freno motore potendo così recuperare maggiormente l'energia cinetica durante le fasi di frenata ad accelerazione o veleggio aumentando l'autonomia della vettura non è prevista invece la guida one pedal visto che comunque servirà a frenare per fermare completamente la vettura chiudiamo la prova parlando di un elemento chiave di questa vettura cioè l'autonomia la casa tedesca ha dichiarato una percorrenza di 490 km nel ciclo combinato per questo modello diciamo che è un dato un po' ottimistico visto che noi siamo riusciti ad arrivare a poco più di 350 chilometri percorrendo un misto tra città strade extraurbane ed autostrada il consumo medio rilevato è stato di 21,1 kilowattora su 100 chilometri salito a 22,4 kilowattora su 100 chilometri nei 130 chilometri di autostrada percorsi utilizzando l'auto esclusivamente in città invece si può raggiungere un'autonomia più elevata attorno ai 400 chilometri come si ricarica la id 5 gtx è alimentata dalla batteria da 77 kilowattora la più potente disponibile attualmente sui modelli a zero emissioni del marchio tedesco ed è fornita di sede dal doppio cavo di ricarica il mod 2 per quella domestica ed il mod 3 per la wall box o le colonnine il caricabatterie interna è un trifas da 11 kilowatt mentre in corrente continua la ricarica può avvenire fino a 135 kilowatt per quanto riguarda le tempistiche servono oltre 7 ore e 30 per una ricarica completa utilizzando un'infrastruttura da 22 kilowatt mentre bastano circa 25 minuti per ricaricare l'80 per cento della ricarica con una colonnina rapida a corrente continua quanto costa la woswagen id 5 gtx è disponibile esclusivamente con unità elettrica 299 cavalli e la batteria da 77 kilowattora con un listino prezzi di 65.450 euro si tratta della versione top di gamma del suv coppè a zero emissioni del marchio tedesco nel complesso la woswagen id 5 gtx ci è piaciuta per la dinamica di guida per lo spazio all'interno e per l'abitabilità posteriore viceversa il quadro strumenti fornisce un po poche informazioni la visibilità posteriore non è al top e i comandi a sforamento non sono sempre precisi e con questo è tutto non dimenticate di andare qua sotto per approfondire l'articolo di restare sulle pagine di motore online e di iscrivervi ai nostri canali social un saluto agli amici di motore online e appuntamento al prossimo video